Pace e bene cari amici, bentrovati! In questa ventiquattresima domenica meditiamo sulle meravigliose parabole sulla misericordia. Anzitutto qual è il contesto prossimo, cioè cosa sta succedendo? Gesù sta accogliendo pubblicani e peccatori, quindi la gente che era rinomata per la vita, se non dissoluta, quantomeno in aperto contrasto con la mentalità giudaica del tempo, e dunque i farisei e gli iscrivi, ovvero sia i religiosi osservanti, criticano il modo di agire di Gesù che è affabile, accoglie tutti, propone a tutti la salvezza, mangia con i peccatori, cerca in tutti i modi di coinvolgerli, di salvarli, e questi lo criticano, ma guarda tu questo accoglie i peccatori e mangia pure con loro. Ecco era considerato il mangiare con i peccatori quasi un farne parte anche tu, diventare impuro, cioè inadatto poi al culto con Dio, quindi lontani da loro. Gesù allora in risposta racconta queste tre parabole che illuminano davvero su chi è profondamente Dio, su quanto gli stiamo a cuore, e dunque sono capaci di cambiare il nostro cuore. Sono tre parabole, la prima è quella famosissima della pecorella che si smarrisce, è Gesù che chiede ma chi di voi se ha cento pecorelli e ne perde una, non lascia tutte le novantanove nel deserto e corre a cercare quella che si è smarrita, e una volta che la trova la prende in braccio, va dai suoi amici e fa festa, perché? Perché era persa ed è stata ritrovata. E la parabola successiva, una donna a dieci monete ne perde una che fa, ramazza in casa finché non la trova e poi piena di gioia chiama le amiche e fa festa perché ha ritrovato quella moneta e dice ancora più c'è gioia in cielo per un peccatore che si converte che per novantanove giusti, che dunque diciamo così pensano di non aver bisogno di conversione. Allora qual è il punto, vedete? Cosa possiamo trarre da tutto ciò? Che in cielo Dio fa festa ogni qualvolta riesce a ritrovare un suo figlio o una sua figlia, ogni qualvolta un suo figlio o una sua figlia si lascia ritrovare, ritorna a lui, si lascia riconciliare con lui. E perché il Signore in tutti i modi e fino all'ultimo istante della vita bussa al nostro cuore per salvarci? Queste due parabole cosa ci dicono? La pecorella è unica, per quello il pastore la cerca, perché? Perché c'è, è importante, non è una massa il gregge, nel gregge ci sono tante pecorelle uniche, dunque perché Dio si dà da fare e non si rassegna al fatto che uno solo di noi si perda? Perché è unico, uno solo. Diceva Sant'Ireneo, un padre della Chiesa, un'anima, un Dio, cioè una preziosità infinita che ognuno di noi ha ai suoi occhi. In teologia si dice che se anche nel mondo ci fosse stata una sola persona, Cristo sarebbe morto in croce per lei. Allora, perché il Signore non può fare a meno di nessuno, di me, di te, e ogni volta che ci smarriamo nel peccato ci cerca, mi cerca e ti cerca? Perché senza di me, senza di te, non si può fare, perché? Perché siamo unici, sei unico, sei unica. Dio, vedete, non ragiona a maggioranza, vabbè, va, sette su dieci ci sono. Pensate, non so, una famiglia che va in vacanza, papà, mamma con, che so, sette figli, ma rotondiamo in grande. Uno si smarrisce, non si trova, è ora di prendere il volo di ritorno. Secondo voi i genitori ragionano, tipo, vabbè, va, sei su sette ci sono, manca il più scavestrato, pazienza. Non possono, piuttosto li lasciano in aeroporto, vanno a cercare l'altro, perché? Perché è il loro figlio, ed è più di ciò che fa o non fa, ha una dignità, un valore che lo rende prezioso. E infatti la parabola della moneta ci dice proprio questo, che ognuno è prezioso. Dice infatti la scrittura, il Signore rivolge parole tenerissime anche nell'Antico Testamento, tu sei prezioso ai miei occhi, è degno di stima, per questo io ti amo. Dunque, ripeto, ecco perché Dio ci cerca, ecco perché ci ha a cuore, ecco perché ti ha a cuore, perché siamo unici e preziosi ai Suoi occhi. Se no, non ci avrebbe sognati, voluti e amati da sempre e per sempre. E questo ci deve veramente far gioire il cuore, sapere che noi non dobbiamo relazionarci con Dio pagando con, non so, preghiere e sacrifici per meritare le sue grazie e il suo amore. Siamo già amati a monte e quando apriamo gli occhi e ritorniamo a Lui, già in realtà è Lui che ci sta cercando. Abbiamo finalmente scelto di rientrare in noi stessi e di rivolgerci verso di Lui, di lasciarci riabbracciare da Lui. Ed è ciò che vediamo infatti nella parabola successiva. Abbiamo la famosissima parabola del figlio al prodigo, dove in realtà il vero protagonista è il padre misericordioso, infatti sarebbe meglio chiamarla così. È veramente una parabola ricchissima di spunti, dalla quale noi vogliamo in particolare prendere un aspetto e quindi chiederci anche che occhi abbiamo nei confronti degli altri. Abbiamo questo figlio minore che a un certo punto vuole andarsene lontano dalla casa del padre, chiede al padre le sue sostanze, i suoi beni, cosa che in genere si chiedevano al momento della morte, e il padre lascia andare il suo figlio, quindi farò puntato anche sul padre, lascia andare il figlio, lascia che in un certo senso sia responsabile delle sue azioni e che arrivi in un certo senso a far anche esperienza delle sue scelte, diciamo così. Il figlio se ne va e vive in modo dissoluto. Vedete, fuori dalla casa del padre, senza il legame con lui, si butta sui piaceri, su tutto ciò che gli passa davanti, vive in modo sfrenato. Arriva però il giorno in cui arriva la carestia, arriva il giorno in cui ti rendi conto che tutto ciò che pensavi ti potesse rendere felice e soddisfare ogni forma di libertinaggio, in realtà ti ritrovi a pagare dazio, ti ritrovi vuoto a terra, frustrato, e questo figlio è ridotto a pascolare porci. Allora, quando tocca il fondo, ci dice il Vangelo che rientrò in sé. È bello, vedete? A volte abbiamo bisogno di toccare il fondo per andare a fondo, per rientrare in noi. E prima dov'era questo qui? Perché rientrò in sé? Perché agiva fuori di sé. Vedete, questo ci aiuta a capire che andare fuori dalla casa del padre, significa vivere fuori di sé. Ci fa capire dunque che il luogo della relazione con Dio profondo è anche quel, appunto, profondo che abbiamo nel cuore. C'è una zona intima, profonda in ognuno di noi, dove siamo noi soli e possiamo volgerci a Dio ed entrare in intimità con Lui. Rinunciare a rientrare in noi, a cercare la verità, ad avere a cuore la nostra interiorità, ad avere contatto con la nostra coscienza, significa vivere fuori di noi, proiettati senza un criterio, senza un fine, su ciò che ci sta attorno, cercando di riempirci di tante cose che mai potranno colmare quella sete di infinito che Dio ha posto in noi. Questo figlio fa memoria della casa del padre, ha nostalgia, e decide di ritornare. Confida nel fatto che suo papà è buono, lo accoglierà, anche se sa che secondo i suoi schemi è giusto, dunque si prepara già a dirgli non mi considerare più tuo figlio, mettimi tra i tuoi garzoni, confida di essere accolto ma che ormai sarà di serie B. Il padre lo spiazza, gli corre incontro e lo ricopre di baci, lo riveste delle vesti più belle, lo ricopre cioè della dignità di figlio, ma anche dell'anello, dei calzari che sono simboli nuziali. È molto bello, vedete? Non una parola di rimprovero, non una parola di, non so, di astio, di offesa, di critica. Si getta al suo collo e lo bacio, il padre è pieno di gioia. È uno stupore immenso. Io mi chiedo come noi viviamo anche i nostri momenti di riconciliazione con Dio, anche la confessione stessa, se sentiamo questo sguardo, questa misericordia sempre rivolta verso di noi e che dunque a cambiare non è lo sguardo di Dio prima e dopo che io mi penta, ma semmai sono io che finalmente mi volgo nuovamente verso di Lui. Il problema è che il fratello maggiore, e qui concludiamo, si rifiuta di entrare. Perché? Perché dice, ma come, questo ho sperperato tutto, se n'è andato e mo' facciamo pure festa. Eh no! E guardate il padre, esce anche incontro a lui. Figlio mio, ma che succede? Ma come? Io ti servo da tanti anni, tu non mi hai mai dato un capretto per fare festa con i miei amici e questo qua che si è sperperato tutto con le prostitute che ritorna, mo' gli fai pure festa. Secondo voi questo figlio, ha vissuto da figlio o da servo? Io ti servo da tanti anni. Verrete, neanche lui, che è stato sempre, diciamo, fisicamente nella casa di suo padre, ha in realtà conosciuto davvero suo padre. È stato lì e sotto sotto avrebbe voluto fare le stesse identiche cose che ha fatto il figlio minore, solo che quello almeno ha avuto il coraggio di andarsene. Lui invece è voluto restare, chissà, forse per compiacere il padre, per paura del castigo, per cercare di meritarsi qualcosa senza capire che già aveva tutto, che ciò che è del padre è anche suo e questo modo di vivere gli ha impedito di gioire per aver ritrovato il fratello. Cari fratelli e sorelle, chiediamoci se per caso non somigliamo a qualcuno dei due figli, chiediamoci se davvero abbiamo e stiamo scoprendo il vero volto di Dio e se di conseguenza sta cambiando anche il nostro sguardo verso gli altri e che Dio ci aiuti a gioire e a vivere della sua infinita misericordia, pace e bene.